Hola, questo è First Love Yourself TV, ama prima te stessa e cambia il tuo mondo, il canale dedicato a tutte quelle donne intraprendenti che vogliono ripartire da se stesse e prendersi della vita al meglio. Come risolvere un problema, cosa fare quando abbiamo un problema e non riusciamo a trovare le soluzioni oppure ci sentiamo quasi sequestrati dal problema, presi così tanti che ci sentiamo senza via d'uscita, ci sentiamo ingabbiati nel problema e non riusciamo a vedere la soluzione del problema, non riusciamo a vedere oltre ciò che ci sta accadendo. È capitato anche a me in passato e adesso ti volevo raccontare cosa ho fatto io per poterlo risolvere, quali sono le tecniche per poterle risolvere. Una delle cose molto importanti che mi ha servito è concentrarmi sul qui e l'ora, cioè fermarmi in un momento della giornata che potrebbe essere anche la mattina o piuttosto nell'ora della pausa pranzo oppure il pomeriggio quando esci del lavoro, prenderti 5-10 minuti seduta tranquilla in un luogo che ti piace, che ti dia serenità, dove tu ti senti serena e pensare in quel momento lì, in quel secondo lì se veramente c'hai quel problema. Se fermiamo l'attimo, la giornata, i momenti nei secondi, quindi lo fermiamo in un attimo come se fermassimo il film che stiamo visualizzando nella nostra mente, se lo fermiamo proprio a quel momento lì, in quel momento noi non abbiamo problemi in questo secondo. Ecco, questo ti dà un po' di serenità, la serenità che poi ti serve per poter affrontare il problema. Un'altra cosa molto importante è uscire dalla cornice problema, quindi noi di solito siamo immersi nel problema, dovremmo uscirne fuori, vederlo da fuori, così poter trovare anche delle soluzioni che forse essendo dentro non riusciamo a vedere. Come fai a fare questo? Allora, immaginandoti il momento dove tu non avrai più questo problema, cioè se tu riesci a visualizzare come sarà la tua vita quando non ci sarà più questo problema, quindi tu come ti comporterai, cosa farai, cosa penserai, dove starai fisicamente quando non avrai più questo problema e quindi senza stare a pensare a tutto ciò che dovrai fare per risolverlo, ma di riuscire a visualizzarti già col problema risolto, come sarebbe la tua vita e comincia a pensare a vivere quella visualizzazione, questo perché? Perché la tua mente, il tuo subconscio così cominceranno a lavorare per te per poterti arrivare a ciò che tu stai visualizzando. In questo momento non è importante il capire come riuscirai a risolverlo, ma bensì come sarai tu quando avrai raggiunto e quando avrai risolto quella problematica che in questo momento ti afflisce e ti fa stare male, quindi questo è importantissimo. Un'altra cosa che serve molto in questi momenti è guardare le specchiette o il ritrovissore, perché è vero che tanti dicono che bisogna non guardarsi indietro, bisogna sempre guardare avanti verso il nostro obiettivo, verso ciò che noi vogliamo. Eppure è vero che ogni tanto guardare lo specchietto ritrovissore della macchina serve, serve perché se tu devi fare un sorpasso e tu non guardi dallo specchietto rischi di andare incontro a un'altra macchina, serve per vedere quanta strada comunque sia hai fatto. Siamo così a volte concentrati sul futuro, su ciò che abbiamo da fare, su quanto manca per raggiungere il nostro obiettivo che ci scordiamo quanta strada abbiamo fatta e guardare la strada che abbiamo fatto ci serve per renderci conto le capacità che abbiamo per realizzare ciò che vogliamo. Quante cose hai realizzato da che sei piccola, anche piccoli traguardi che sei riuscita a raggiungere. Un altro trucco per risolvere e trovare le soluzioni ai problemi che mi è stato utile è fare attività fisica, è importantissimo fare attività fisica perché in quel momento tu cominci a sprigionare una serie di ormone che ti fanno stare bene e quindi riesci a vedere i problemi da un'altra prospettiva. Io ho trovato la risposta e tante idee per delle problematiche facendomi una corsa o per esempio nuotando la mattina al mare. Comunque sia fa movimento fisico, muoviti, esci da casa, non ti chiudere dentro casa, vai fuori, frequenta le tue amiche, vai a farti una cena, un aperitivo con una tua amica, con una persona che comunque sia non con la quale parlare di ciò che ti sta accadendo e quindi continuare a materializzare il problema, ma bensì fai delle cose che ti facciano rilassare e nel momento che tu sarai rilassata vedrai che arriverà la risposta a quella domanda che ti stai facendo o la risposta a quella problematica che in questo momento tu vuoi risolvere ma non stai trovando la soluzione. Quando sarai pronta per risolvere quel problema ti arriverà la idea, l'intuizione, anche questo per esempio è una cosa molto importante che anche a me ha servito, è ascoltarti, prenderti dei momenti per stare da sola per poter ascoltare il tuo vero sé che è lui che ti sa guidare nei momenti di difficoltà, è quello che non ti fa sbagliare, quella vocina che a volte non vogliamo ascoltare, che ci dice attenzione oppure che ci dice vai avanti, perché tu ce la puoi fare. Dentro di te, dentro di ognuna di noi c'è una potenzialità ancora da scoprire che col tempo se seguirai i passi, cominciarai a metterti anche in discussione e a leggere, formarti, a confrontarti, riuscirai a capire, riuscirai a tirar fuori. È solo dentro di te, è dentro di te, solo che tu probabilmente in questo momento che sei dentro il problema non riesci a vedere le tue potenzialità, ma io sono certa che tu ce l'hai. Ok, io vi auguro un bellissimo fine settimana e ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Un abbraccio ad ognuna di voi. Ciao!